Sulle orme del Santo Padre per avviare sul territorio percorsi educativi e formativi rivolti alla legalità per le giovani generazioni. La Giunta Comunale di Bisceglie ha deliberato la presa d'atto del Patto Educativo Provinciale, ispirato ai principi del Patto Educativo Globale di Papa Francesco, e già sottoscritto dal Sindaco di Bisceglie, Angelo Antonio Angarano, e dal Prefetto della BAT, Maurizio Valiante, al Palazzo del Governo di Barletta. Un'iniziativa sostenuta dalle diocesi di Trani, Barletta, Bisceglie e Andrea, oltre che dal Presidente della Provincia, Bernardo Lodispoto, in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci. Abbiamo subito aderito a questo progetto, convinti sia necessario mettere in atto ogni azione utile in favore dei giovani. In questo percorso opereremo con agenzie educative, associazioni, famiglie, con gli stessi giovani, ha sottolineato il Sindaco Angarano. Stiamo vivendo un periodo complesso tra la pandemia e il conflitto, aumentano preoccupazioni e smarrimento. Prioritario essere accanto ai giovani, per condurli a sviluppare una coscienza sociale, contrastando i fenomeni di emarginazione e disagio giovanile. Il patto educativo è aperto all'adesione di tutti i soggetti del territorio, sia pubblici che privati, inviando una mail all'indirizzo pattoeducativobat.pref underscore barletta andriatrani chioccialainterno.it. Ciascun soggetto potrà collaborare alla realizzazione delle azioni in programma, con proprie risorse economiche o con bandi e finanziamenti. Un particolare ambito di intervento è quello che vedrà interessate le associazioni di categoria che operano nel settore dell'intrattenimento. Queste potranno elaborare strategie concrete per diffondere una cultura positiva del divertimento, superando le forme di aggregazione passiva e promuovendo invece attività che stimolino l'interesse socioculturale e il rispetto delle regole del vivere civile.